Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Francesco Totti, noto come il pupone, ha raggiunto un nuovo traguardo compiendo oggi 48 anni. La sua compagna Noemi Bocchi ha organizzato per lui una festa a sorpresa a casa con gli amici più cari. Una serata divertente, con caccia al tesoro per trovare il regalo di compleanno, karaoke e un gesto commovente della figlia Isabel che ha fatto piangere Totti. La festa è stata un successo, con giochi, musica e momenti di commozione. La serata è iniziata con una caccia al tesoro per trovare il regalo di compleanno, un trolley, poi una cena buffet e divertenti performance al karaoke. La vera sorpresa è stata la lettera emozionante della figlia Isabel che ha fatto commuovere Totti. Il toccante momento è stato condiviso sui social da Noemi Bocchi con un video che ha emozionato i fan del pupone. Francesco Totti e la figlia Isabel hanno un rapporto speciale, che sembra essere diventato ancora più forte dopo la separazione. La piccola Isabel sembra andare d'accordo con la nuova compagna di Totti, Noemi, e i suoi due figli. Attraverso i social, Totti ha ricevuto gli auguri del figlio Christian, mentre della figlia Chanel non c'è traccia. Non si esclude che abbia fatto gli auguri privatamente. La festa di compleanno di Francesco Totti è stata un momento speciale, con emozioni sorprese e tanto affetto da parte dei suoi cari. Un compleanno indimenticabile per il pupone, continua a essere amato e festeggiato. Grazie a tutti.